Si ferma il rialzo di bitcoin proprio e nuovamente sul livello di resistenza più importante ancora una volta respinto un po' un gioco troppo facile perché è quasi un pasto gratis ragazzi in quanto un sell short sui livelli di resistenza è proprio la bc dell'analisi tecnica troppo facile anche per essere vero tanto è vero che il mercato aveva anche tentato un breakout e in effetti nell'ambito di una chiusura sul daily era riuscito a fare nuovi massimi l'ultima chiusura daily aveva fatto 30.716 questa del giorno 3 luglio ha fatto prezzi bit stamp 31.158 facendo un nuovo massimo incluso per quanto riguarda bitcoin ma anche in high bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video come mai bitcoin non è riuscito a superare questa fase di massimi in maniera consistente ci ha provato un fake breakout in questo contesto può portare a un ribaltamento di fronte importante e così infatti dobbiamo andarlo a vedere anche il motivo per il quale nel penultimo video vi avevo anche accennato alla questione che era il momento importante e propizio per tentare il breakout proprio in questi giorni non ci riesce ritorna tutto punto è a capo vediamo cosa combina però c'è un rischio il rischio ve lo faccio vedere e si configura in questa grafico che ormai tutti conoscete cioè il ciclo di distribuzione di Wyckoff che andremo a vedere nella video di oggi miscelato a un altro grafico stra importante quello del dollaro americano il dxy cioè il grafico che più di tutti è un indice di correlazione inversa rispetto a bitcoin cioè ha una correlazione inversa rispetto alla bitcoin quando scende il dxy bitcoin sale allora tutte queste cose mischiate in un unico video ma prima di andare avanti lancio la moneta e vediamo che cosa succede ragazzi mi è caduta la moneta vediamo un po' però anche nella caduta della moneta è uscita positiva ho visto un po' di rumore di fondo su questa moneta quindi io non la considero più di tanto però positiva mi piace vabbè allora andiamo a vedere un po' la questione partendo dall'analisi di bitcoin che cosa è successo sostanzialmente in lunedì allora lunedì tentativo corretto di bitcoin di fare il breakout dopo una pausa di riflessione durata n giorni sufficiente adeguatamente a far respirare dall'ultima impennata che è stato praticamente un ascensore perpendicolare al rialzo quindi andava correttamente attesa una fase di qualche giorno erano passati dieci giorni poteva tranquillamente andare a fare un breakout e continuare fino ai successivi livelli di target cioè intorno alla zona 33 e poi 35 corrispondente anche allo 0,38 di fibonacci quindi seconda livello importante di fibonacci ma non il più importante gli altri sono lo 0,5 che è estremamente lontano ragazzi se non che bitcoin si ferma e già nella giornata di martedì inizia un capovolgimento di fronte con un meno 1,24 che sta consolidando proprio in questo momento nella giornata di oggi con un altro meno 1,30 che configura in pratica un nulla di fatto ed anche configura concettualmente la fake breakout di questa candela perché anche da un punto di vista di analisi tecnica il fake breakout si va a identificare nel momento in cui in una delle candele chiude al di sotto del minimo della candela di breakout quindi in questo caso la candela di breakout è questa qui nella giornata di ieri nulla era successo un reverse di questa giornata se chiude al di sotto del minimo in questione che è 30.587, 30.006 in pratica sancisce e definisce questa candela come una candela di fake breakout quindi fake breakout che corrisponde o può corrispondere anche alla famosa struttura di Wyckoff di distribuzione e può essere indicativo o del UT di Wyckoff se guardiamo uno schema di distribuzione su time frame daily perché come vedete abbiamo avuto il primo poi il secondo schema e in questo caso l'UT è più alto sia in close questo non sia come vedete in shadow però in close sì ragazzi è praticamente identica a questa formazione se andiamo a vedere questa struttura su un time frame molto più breve può essere identificativo perché qui si vede anche meglio la barra di distribuzione può essere identificativo addirittura di un UTAD cioè di una fase successiva e ultimo spunto rialzista prima dell'inversione e quindi la fase diciamo poi di ed è di Wyckoff questa cosa è possibile ci sono dei rischi che questa cosa in effetti avvenga ragazzi allora quando un break di questo tipo ragazzi non va a buon fine i rischi di un'inversione sono molto elevati perché o il mercato si ferma velocemente da questo tipo di fate discendente oppure va a testare il livello della barra successivo ed essendo i mercati delle cripto estremamente riflessivi e molto legati alla parte emotiva un evento del genere può innescare l'effetto panico che poi magari viene stoppato viene utilizzato come l'ultima volta per manipolazione del mercato come è stata questa fase qui con l'effetto panico breakout del minimo crash stop hunting di una serie di livelli e poi presa di trend completamente diversa fatto sta che ovviamente non si può ragionare dicendo qui stanno facendo uno stop hunting e bisogna comunque proteggersi dall'eventuale rischio nel momento in cui il mercato dovesse andare a breccare i 30.000 dollari confermando questa cosa in close invaliderebbe tutta questa fase di barra di congestione e esporrebbe in maniera palese una fase ribastista anche con un eventuale arrivo intorno ai 28.500 parliamo sempre di ritracciamento di breve periodo ma comunque un ritracciamento importante a quel punto la figura di distribuzione di Wyckoff si andrebbe a configurare con una struttura del genere innescando in pratica una ulteriore spinta ribastista dovuta alla fase emotiva che ne deriva perché nel momento in cui noi conosciamo queste informazioni chi vuole poi stare long su un mercato quando c'è il rischio che si sia creata una fase distributiva e quindi diventa un po' pericolosa ora fin tanto che i 30.029.5 reggono non è un problema il problema è che il mercato soprattutto bitcoin e soprattutto gli speculatori in questo caso conoscono questi livelli quindi a volte spingono i prezzi appositamente per prendere tutti gli stop e poi ripartire innescando appositamente proprio le vendite a spirali dovute agli stop così come sono state innescate le vendite e liquidazioni di queste due candele 1 e 2 dovute agli shortisti qui gli short selling sono stati liquidati in maniera profonda e la stessa cosa era stato fatto magari qui con i long che erano mandati che erano stati mandati in stop in pratica è un gioco delle parti e ci sta ragazzi poi stare dietro la parte speculativa è molto difficile sembra che è assolutamente impossibile però con delle strategie programmate questi livelli di stop hunting eccetera non vanno a modificare sostanzialmente l'esito delle nostre operazioni in maniera consistente anche perché a volte ci girano a favore quindi in pratica non cambia nulla bisogna solo avere i nervi saldi i nervi saldi perché è molto difficile stare all'interno di quelle strutture quindi questo fallimento del breakout di bitcoin che era assolutamente da attendere in questi giorni sancisce un pericolo in atto cioè il fatto che questa barra di congestione venga poi breccata in fase di basista e presumibilmente vedete la struttura dei 30.000 dollari e poi questa zona qui è pericolosissima tra le altre in questa zona qui 29.6 passa anche la media mobile questa più lenta a 21 giorni la media 21 giorni sempre calda in questo contesto sancisce in pratica un'inversione anche di breve periodo in pratica questo trend termina e ne inizia uno nuovo ribassista troppo breve troppo intenso troppo speculativo troppo dovuto a notizie eccetera perciò sarebbe ulteriormente pericoloso anche perché a livello ciclico un massimo realizzato proprio in questi mesi e mesi di giugno luglio è anche indicativo di un possibile massimo dell'intero anno 2023 perché questa ipotesi è ancora valida ragazzi non è che non è valida nell'anno 2023 avevamo indicato 28 29.000 dollari come target l'arrivo a 31 ci sta perché parliamo di volatilità è impossibile prevedere un livello specifico però se da qui il mercato dovesse rigirarsi e poi fluttuare male potrebbe essere anche indicativo che ha fatto un massimo del 2023 è troppo presto secondo me è troppo pericoloso averlo fatto qui però il problema c'è quindi sostanzialmente era importante che bitcoin non perdesse la spunta realzista la spinta realzista proprio in questi ultimi giorni ma c'è un'altra questione c'è una questione molto particolare cioè il legame con il DXY perché in molti hanno indicato e concettualmente la questione sul fatto che bitcoin può continuare la sua fase di spinta realzista solo se il dollaro continua a perdere valore rispetto a quello che ha fatto già negli scorsi mesi perché è da un po' che il dollaro si sta svalutando ragazzi e non è da quando hanno iniziato la stampa non c'entra niente perché quando ha iniziato la stampa era qui poi ha fatto una spirale iper realzista come vedete quindi la moneta del dollaro rispetto alle altre monete mondiali si è apprezzata dall'evento pandemia ragazzi non si è deprezzata ok quindi non ci confondiamo su queste cose però dalla da questa zona di massimo del 2022 ottobre del 2022 è iniziato come vedete una struttura ampiamente ribassista che consiste anche e anche solo di un ciclo molto importante allora questo grafico è rilevante perché perché nel momento in cui bitcoin deve salire è improbabile che ci sia un grafico del DXY realzista in maniera prepotente diciamo in questo modo quindi qualora questo grafico inverta il trend e ci sono dei livelli che ora vediamo e ritorni realzista la possibilità che bitcoin abbia fatto un massimo dell'anno 2023 diventa molto più realistica quindi questi due grafici sono collegati e noi dobbiamo guardarli entrambi se non che io sono ancora positivo nell'ottica di poter tentare nuovi massimi su bitcoin però sono molto allerta vi avevo già accennato che dalla metà giugno in poi sarei stato con due occhi così e questo continuerà in pratica fino alla chiusura del ciclo anuale di bitcoin prevista per febbraio del 2024 quindi per me in questa fase si sta con gli occhi puntati in questo modo perché può in effetti bitcoin invertire da qui continuare a scendere addirittura provare a fare magari minimi intorno anche ai 20 mila insomma perciò non mi fa di stare ancora sui mercati dopo l'importante rialzo che è avvenuto quindi cosa faccio? seguo il trend utilizzerò le mie tecniche di trading per seguirlo quindi se saliamo benvenga e tutti siamo felici ma se da qui il mercato inverte e inizia a bancollare per un po' io faccio le mie operazioni di trade ragazzi esco ed eventualmente poi rientro semplicemente perché è giusto fare così riducendo ampiamente i rischi di una ripresa della struttura ribassista ovviamente non è facile se non siete formati e non avete fatto corsi o letto libri sul trading e investing fare questo tipo di operazioni non è possibile quindi lasciatele stare ve lo consiglio vivamente perché fate più danni che altro quindi solo trader formati possono provare a gestire queste fasi di mercato in questo modo perciò ragazzi non sono consigli finanziari se non avete formazione mi sconsiglio vivamente di provare a fare buy e sell tentando di eliminare queste cose ma vi consiglio molto più ovviamente di non perdere tempo in quel modo e non anche soldi ma di studiare che non perdete né soldi né tempo e capite anche tante cose che vi possono essere utili anche in un eventuale bull run più consistente anche nei mercati delle altcoin che magari in questo momento stanno soffrendo c'è questo grafico che infatti lega il DXY a Bitcoin il grafico della correlazione che indica che il livello di non correlazione quindi in questo caso correlazione inversa è negativo meno 0,20 questo significa che il DXY è tendenzialmente segue una correlazione inversa a Bitcoin nel momento in cui Bitcoin sale il DXY scende se sale DXY scende Bitcoin non è 1 a 1 cioè quindi non è una correlazione inversa pura scusate ma è una correlazione inversa leggera quasi una decorrelazione cioè il fatto che non siano quasi per niente collegati cioè vicino allo 0 e non sono collegati non hanno nessun tipo di regame e una correlazione negativa a meno 0,20 ci dà una indicazione del fatto che sono leggermente correlati in maniera inversa questo significa che è vero che Bitcoin sale se DXY scende ma non è poi così forte questa spinta rialzista o ribassista su Bitcoin dovuta al DXY perché molto di più e molto più importante quelle che sono le analisi e le news di natura fondamentale sul mercato delle cripto prima fra tutte e la più importante fra tutte nel questione di Bitcoin l'adoption di Bitcoin in questo contesto infatti noi stiamo portando avanti la narrativa dell'adoption di Bitcoin sotto forma di ETF e quindi di asset che può essere inserito all'interno anche di fondi più istituzionali eccetera quindi quella è la narrativa del momento ed è quella l'adoption del momento di Bitcoin ed è molto più impattante quel dato rispetto a che cosa fa il DXY però il DXY lo possiamo comunque andare a controllare perché un minimo di correlazione inversa ce l'ha meno 0,20 e quello può dare il suo tassello alla fine comunque del video vi dico anche la mia opinione su questa struttura di breve periodo di Bitcoin allora andiamo anche a controllare DXY e da un po' che non lo facciamo stiamo chiudendo su dollaro ragazzi un ciclo di durata abnorme 15 anni ciclici di DXY l'ultimo era stato quello del massimo dell'euro rispetto al dollaro di quando è stato lanciato poi l'euro nel 2002 questa struttura vedete è stata un trend fondamentalmente ribassista per il DXY che ha segnato l'inizio probabilmente di una fase non solo quindicennale ma trentennale del dollaro americano che a quel punto ha migliorato sensibilmente il suo trend infatti questi 15 anni attuali del dollaro americano sono rialzisti rispetto ai precedenti i precedenti come vedete erano sostanzialmente due cicli similari da 15 anni quindi un totale di 30 anni ciclico che ha visto poi negli anni 70 fine anni 80 con la crisi del petrolio poi la struttura della stampa monetaria del dollaro per innescare diciamo la spirale economica e vedete anche gli effetti del dollaro debole quindi è una M palese sono 30 anni quindi come vedete questi sono i maxi cicli della storia 30 anni sul dollaro americano che sono stati chiusi proprio in questa zona sul minimo della crisi del 2008 dal 2008 è iniziata una struttura nuova del dollaro americano rispetto alle altre valute ed è forte è rialzista questa è una struttura che non è debole e quindi anche qui vi spiega un po' di cosette perché bisognerà capire quando chiude questo ciclo a 15 anni che cosa inizia perché se inizia il nuovo ciclo di forza del dollaro e lì ragazzi ovviamente la correlazione inversa su bitcoin si farà sentire perciò e anche per questo che io vi stavo dicendo che abbiamo i giorni contati per spingere nuovamente al rialzo in maniera consistente non sono contati poco perché comunque questo è un grafico weekly quindi quello che vedete qui alla fine ci porta alla fine dell'anno quindi parliamo di 6 mesi perciò ancora il tempo c'è però abbiamo il tempo un tempo stretto per spingere perché poi inizierà un nuovo ciclo quindicennale su dollaro e questo ciclo nuovo quindicennale ovviamente avrà una campana rialzista in una prima parte e ciò va compreso ragazzi poi quello che succederà ovviamente non si possono prevedere queste cose a distanza di 15 anni come sapete ma si può guardare per prendere le nostre decisioni ed in questo momento è proprio quello che stiamo facendo il DXY in effetti ha creato come vedete una specie di triangolo chiarissimo fatto in questo modo ed è l'ultimo ciclo annuale che secondo me va a concludere questo ciclo da 15 anni poi bisognerà comprendere se fa imperfezioni o meno però sostanzialmente ancora la fase finale ribassista la deve fare quindi teoricamente ci manca un pezzettino di fase ribassista del dollaro americano per chiudere i giochi magari fa un laterale ribassista non fa niente di che però questo potrebbe dare il là finale a bitcoin proprio per fare quell'ulteriore spinta che ci serve quindi da un punto di vista tecnico anche di xy ci porta ad avere l'idea che forse la formulazione di guaicov di distribuzione non sarà così semplice cioè non sarà approvata cioè che non abbiamo disegnato un uti o un utad in questa zona di massimo ma semplicemente stiamo correggendo ulteriormente per poi riprendere probabilmente a tentare un nuovo break di questo livello tra un po' di giorni c'è da dire che però cosa succede ragazzi qui guardate vi faccio capire qui è stato fatto un minimo di xy e questo minimo è un po' corto rispetto ai standard di questi cicli perché sarebbe 847 giorni è un po' cortino però parliamo di cicli a 15 anni e se io vado ad accorciarlo e dico è stato chiuso qui non c'è niente di anomalo perché parliamo di 5523 giorni a fronte del precedente che era 5691 ma quello precedente era 600 giorni in meno ragazzi certo qui erano periodi diversi stiamo parlando degli anni 70 quindi hanno un po' poco peso prendere questi dati anche a livello di analisi ciclica ha più peso invece per rendere i ultimi dati soprattutto questi qui do al 2000 in poi quando sono cambiati anche tanti mercati e poi soprattutto considerare il fatto che un ciclo di questo tipo rialzista che duri poco un po' di meno dei precedenti è un po' un'anomalia però lo può fare quindi l'idea che anche da qui sia stato chiuso l'intero ciclo quindicennale di DXY noi dobbiamo comunque tenerlo in considerazione per fortuna è facile capirlo perché se andiamo a superare questo livello che vi sto postando adesso 105,64 105,106 su DXY allora qui è stato chiuso un ciclo è probabilmente annuale da qui in poi perciò il mercato ha iniziato una nuova struttura ciclica sul DXY che poi andremo a configurare successivamente andremo a vedere successivamente è vicino questo prezzo quindi è vero che abbiamo sempre le due famose ipotesi che ci rompono le scatole come si vuol dire però è anche vero che in questo caso eliminarne una è facilissimo perché nel momento in cui è stato chiuso lì un ciclo annuale è improbabile che il mercato abbia ancora un altro anno per chiudere il quindicennale quindi a quel punto rischi elevatissimi anche della questione con relazione inversa bitcoin dollaro è però lontano quindi al momento attendiamo vediamo che cosa succede però io intanto vi ho dato un'indicazione potete anche guardarla nei prossimi mesi e comprendere io sono sempre dell'idea che questo grafico debba ancora chiudere e probabilmente farà una cosa del genere fino alla fine dell'anno anche perché per avere un dollaro così forte noi dovremmo avere un incremento ulteriore dei tasti di interesse della Fed ma al di sopra delle aspettative cioè dei prossimi due che già sono stati dichiarati fattibili cioè la Fed dovrebbe continuare ad aumentare i tasti fuori da questi due rialzi quindi andremo al 6,50 quindi una nuova impegnata inflazionistica qualcosa di storto deve girare qualcosa di storto perché altrimenti è probabile che l'attuale situazione si prolunghi anche fino alla fine dell'anno con il pilota automatico come la Fed in pratica ha messo in questo momento perciò questa è l'ipotesi secondo me è principale ed è quella più probabile 60% l'ipotesi che da qui si è troncato e chiuso un ciclo 15 annale di XY e si è iniziato una nuova struttura ciclica avremo una conferma al superamento di questo livello ma gli diamo una probabilità del 40% perché secondo me è meno probabile fatto sa che da questo grafico si evince anche che le potenzialità di Bitcoin ci sono ancora per fare nuovi massimi ma c'è anche il pericolo come vedete che si sia stato fatto già il massimo dell'anno perciò in questo momento io vi consiglio ovviamente se siete holder di non far nulla restare con il vostro 21.000 il punto di acquisto dell'holding dell'anno 2023 ma se siete trader ragionate sulla possibilità di agganciare dei sistemi di trading automatici o delle vostre strategie di trading che vi consentano magari di gestire il rischio di questa fase perché se rompevamo i massimi dovevamo farlo in questa settimana invece il mercato ha reagito male vediamo ancora è giovedì e mercoledì scusate non è detta l'ultima parola cioè giovedì venerdì sappiamo bene come agisce bitcoin però dove parlo a breve ragazzi perché il tempo stringe ed è questo il motivo che mi premeva sottolineare va bene video lunghissimo scusate ma tanta roba tanta carne al fuoco like perché se siete arrivati alla fine del video non mi mettete un like siete dei bruffantini ciao a tutti grazie a tutti